Benvenuti in questo nuovo video, lo so che la qualità è pessima, ma questo è perché la luce qua in cucina non è il massimo. Sono qui per un video spesa come avete letto dal titolo. Ho trovato un sistema per... spero che stia sul telefono comunque. Comunque, allora, il totale di questa spesa è di 90,19€. Ok, scontrino bello lungo. Niente, io partirei subito col farvi vedere cosa abbiamo preso. Quindi cambio l'inquadratura, cambio fotocamera e vi riprendo un attimo il tutto. Poi ho ancora, ecco, oltre a quello che vi farò vedere c'è anche una cassa di acqua frizzante che è lì per terra. Noi abbiamo la soda stream, quindi il gasatore soda stream. Quindi ci facciamo l'acqua gasata a casa. Però a Franz fa comodo avere anche le bottiglie grandi ogni tanto. Magari se fa lavori di fuori, ok, si porta dietro una bottiglia. Qual è successo? Oh. Non so cosa sia successo. Comunque, parto con i video spesa, altrimenti non vado più avanti. Tra un po' arrivo a casa Franz e io sono ancora qui che cerco di registrare il video e mettere via la spesa. È già ora di cena. Però questa sera, come ho già detto nel vlog, che non so se sarà già uscito o uscirà dopo questo video, ci mangeremo la pizza già pronta. Quindi, boh, diciamo che la cena è risolta. Non c'è, non devo diventare matta a far qualcosa. La cena c'è già. Allora, questa è una spesa che avremmo potuto anche tranquillamente evitare di fare. L'abbiamo fatta perché eravamo a Belluno, eravamo in zona e perché in questo negozio il Pricks. Quindi, ci sono tantissime offerte, devo dire. Questi sono i prezzi. Acqua frizzante, 1,14, 6 litri di acqua. No, 6,5. No, 6,5, scusate. Sono da un litro e mezzo le bottiglie, ok? Fate voi i conti perché io non sono in grado. Fatemi vedere. Cavolfiore, minestrone, patate, zucchine, mix di cavoli. Ecco, una buona offerta era questa qua. Vabbè, aspettate che vi faccio vedere un po' tutti i prezzi che così... Così ci siamo, no? Questi sono tutti i prezzi. Ok. Una buona offerta era questo. Misto legumi. Ci sono anche questi bicchieri che però non ci servono qua a casa. E sono di plastica? Sì, perché quelli biodegradabili sono un disastro. Si rompono come niente. Lì avevano ancora quelli di plastica e li abbiamo presi. E la cassa d'acqua è questa. Ok, parto subito con qualche schifezza. Queste erano a 99 centesimi a confezione. Ma mi sono accorta dopo che all'interno ce ne sono 5, non 6. Cioè, una volta costavano così al Lidl. Mi pare. Vero che una volta costavano 99 centesimi quelli all'albicocca. 6 grossano all'albicocca? Ma una volta parlo di anni fa, è probabile. Comunque, due confezioni di questi così Franza è a posto. Ok. Poi, passiamo a cose sane. Qui ci sono tre finocchi. Due sono belli grossi, uno un po' più piccolo. Clementine. Ho preso quelle sfuse. Perché secondo me convenivano di più queste. Poi ho preso le arance tarocco. Sempre sfuse. Italiane. Anche le clementine sono italiane. Banane. Sempre sfuse anche queste. Ne ho preso un casco più altre due. Sì, altre due sciolte che erano lì, poverette. Che vagavano. Chi mi conosce, chi mi segue da un po' sa che non sono per me. A me non piace la lemon soda. È di Franza. Ecco, questo è il misto legumi. Che era in offerta. Secondo me questo è ottimo. Vabbè. Fagioli e prignelli. Comunque, secondo me è ottimo. Siccome io faccio anche pasta e fagioli. Adesso ho preso il gusto a fare pasta e fagioli, pasta e ceci, eccetera. Questo qua è perfetto. Ottimo. Ho preso questa. Cotoletta vegana. Boh. Solo per provare. Ma già solo a vedere. A parte che c'è un casino di sale all'interno. Ma già solo a vedere tutti gli ingredienti che ci sono mi viene paura. Ma non li ho letti. Ho detto, la provo lo stesso. Non importa. Poi, è una vita che non compro queste cose. Quindi, ho detto, me ne prendo una confezione. Cipolla tritata. Ma non ho preso... Ah, sì, però è nella busta. Due mozzarella senza lattosio. Anche queste non costavano tantissimo. Perché quella di marca costa... Cioè, io non so, sembra oro. Va bene. Mozzarella senza lattosio. La panna. Questa purtroppo non c'era senza lattosio. Soffrirò per una volta. Volevo fare la panna con le fragole e magari le banane. Una macedonia, insomma, con la panna montata. Due confezioni di guanti. Taglia S. Guanti per i piatti. Tre di stracchino senza lattosio. Poi due confezioni di yogurt Mila senza lattosio. Non so se mi piaccia questo qui bianco. A me piace quello del... Eh, io ho i marchi, non mi ricordo. A me piace quello della Müller. Però l'ho preso lo stesso. Me lo faccio andare bene. Rieccomi. Ecco qua, le fragole. Hanno un profumo buonissimo. Origine Italia. Ah, erano a tre euro e passa. Mamma mia, hanno un profumo buonissimo. Poi, ecco una schifezzuola. Però, questi qua mi piacciono. Sono semplici biscotti secchi con sopra il cioccolato. Boh, fondente. Eh, li ho presi perché riesco a gestirmeli. Essendo dieci pacchetti da due biscotti ciascuno, riesco a gestirmeli. Se invece io ho una confezione non divisa, tendo a mangiare tanto. E invece se ho la possibilità di avere già tutto diviso, è molto meglio. Il Twix è quello grande. È di Franz. Ormai sapete, Twix, lemon soda, sono di Franz. Poi, carta da forno già divisa in fogli e pellicola per microonde. Frigo e microonde. Qui c'è un'insalatina. L'unica busta che non era piena d'acqua. Anche se si nota, anche questa acqua all'interno. Però era quella migliore tra tutte le buste che c'erano. Cioè qua la verdura te la vendono già a mezza andata male. Ed effettivamente io non ho ripreso niente. Avrei voluto riprendere, ma so che non si può nei negozi. L'insalata era tutta già, stava già marcendo all'interno. Quindi, ok. Ho preso questa che era quella migliore. Poi, questi quadrotti di riso con cioccolato fondente. Questi non li ho mai provati. Avevo comprato questi. Che però non ho ancora mai aperto. Cioè, questi so che sono buoni perché li ho già mangiati. E questi qua, invece, nel negozio vicino casa, diciamo, non ci sono. Quello dove vado di solito a fare la spesa. E li ho trovati e allora li ho presi. Comunque, anche questo l'ho comprato due settimane fa, tre. E' ancora chiusa la confezione. Quindi, cioè, vedete che comunque le cose le compro, ma non è che le finisco subito. Anzi, mi rimangono lì anche. Poi ho preso un deodorante. Come profumo mi piace, ma non so se funzionerà su di me. Intanto il profumo mi piace, dai. Poi, del pane arabo. So che è un pane industriale, ma a me non interessa. Lo metterò in congelatore, che così sono due confezioni. E boh, insomma. Tre ciotoline che ho fatto vedere nel vlog. Però non so se sarà già uscito, mi ripeto. Sono così, sono molto carine. E le ho prese di colore marrone. Con la fantasia marrone. Perché si intonano con le nuove tazze, che non mi sono ancora arrivate. Spero arriveranno intere. Però staranno bene. E queste ciotoline si possono usare per, non lo so, un qualche antipasto. Oppure anche per la colazione. Non lo so. Per qualcosa le utilizzerò. Per la colazione forse sono un po' piccoline. Però, essendo piccoline, mi aiutano a dosare il latte. Perché sapete che io vado matta per il latte. E invece dovrei evitare di berlo. Siccome non riesco a non berlo, perché mi piace troppo, devo limitare le dosi, le quantità. Anche del latte. E quindi ho comprato delle tazze più basse rispetto a quelle che uso di solito. E queste qua anche sono più basse, sono più piccoline. Quindi secondo me mi aiuteranno se vorrò utilizzarle per la colazione. Poi queste uova. Le pizze. Che sono due pizze uguali. Tutte e due margherita. Ah, non avevo guardato la scadenza. Va bene, sono uguali. E queste saranno per stasera. No queste, una di queste sarà per stasera. Perché io mangerò un pezzettino piccolo. A me riempie molto questa roba. Essendo poi roba preparata industrialmente. Mi riempie subito lo stomaco. Quindi per me sarà un pezzettino. Il resto per Franz. Gli assorbenti. Che erano in offerta tutti. A 99 centesimi. O 90, no. A 99 mi pare. E beh, li ho presi. Così sono tranquilla per un po'. E poi c'è ancora della roba qua dentro. Che è la roba che va in congelatore. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora. Questo. Contorno di patate, zucchine e cipolla rossa di Tropea. Siccome erano anni che non entravo in questo negozio. Questo non l'avevo mai visto. E quindi per provarlo l'ho preso. Poi qui c'è un misto di verdure per soffritto. Io lo compro già col fatto, sì. Perché è molto comodo. Poi, cosa c'è qua dentro? Questo che roba è? Ah, è il minestrone light. Senza cereali, senza patate. E cosa c'è dentro? Carotte, zucchine, pomodori, cavolfiori, fagiolini, zucca, sedano, spinaci, funghi, porro, cipolla e prezzemolo. Secondo me, deve essere buono questo, eh. E quindi l'ho preso. Poi, cavolfiore a rosette. Delle verdure miste. Queste qua sono simili a quelle Bonduelle. Eh, Bonduelle? Oh, vabbè, mi par di sì. Simili. Qua non ci sono i cavoletti di Bruxelles, però. Cavolfiore, broccolo, broccolo romanesco e cavolini. Ah, sì, ci sono anche quelli. Ah, sì, eccolo qua. E ecco. E di questo ne ho prese due buste, se non sbaglio. Due o tre buste. Ma questo è il pesce. Vabbè, ho preso il merluzzo al naturale. Sono tre pezzi. 100 grammi per pezzo. Io dovrei mangiare 250 grammi. E non ce la faccio, sinceramente. Per me sono troppi. Quindi ne ho preso un altro. E poi, sì, eccolo qua. L'altra busta di questo mix di cavoli gustosi, come lo chiamano loro. Ecco. Quindi questa è la spesa fatta al Bruxelles. Vi faccio venire il mal di mare qua. Mi sto spostando un po' troppo. Ecco qua. Questa è la spesa del Bruxelles di quest'oggi. E per un totale appunto di 90 euro. E spiccioli. Cioè, qui ci sono 90 euro di roba. Oddio, non mi sembra così conveniente. Se si vanno a seguire tutte le offerte, probabilmente si riesce a comprare abbastanza roba e a spendere magari un po' meno. E così ci sono anche cose che non erano in offerta. Tipo, questa roba non è mai in offerta praticamente. E verdure, il pesce, sì. Va bene, comunque. Bisognerebbe seguire le offerte. E andare in mille negozi. Solo che ora che si va in mille negozi, si spende un casino di benzina. Almeno qui da me. E quindi conviene fare spesa tutto in un negozio. Anche se si viene a pagare molto di più. E vabbè. Dai. Io vi saluto. Vi ringrazio per essere stati in questo video spesa. Che era da tantissimo che non facevo. E cos'altro posso raccontarvi? Niente. Devo mettervi a tutto e preparare per la cena. Che ho la teglia ancora da lavare. Quindi, perché devo scaldare la pizza. Ma la scaldo all'interno del forno della stufa. Perché per chi è nuovo su questo canale, questo forno non funziona. E all'interno c'è un fornetto. Sì, lo so. È un deposito. C'è il fornetto e basta. Questo forno non funziona. Abbiamo deciso di non cambiarlo. E quindi ci arrangiamo con quello che c'è in casa. Quindi, frigitrice aria. Il gas. Ma adesso il gas lo uso veramente pochissimo. Ho la pentola a pressione. Frigitrice aria. E la stufa a legna. Per cui, basta e avanza. Gas ne stiamo consumando pochissimo ultimamente. Infatti, anche la bolletta credo arriverà molto bassa. Per fortuna. Non lo usiamo per il riscaldamento. E quindi, meglio così. La stufa ci ha stravolto la vita in positivo. E quindi, ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Non so quando. Perché ho una vita un po' strampalata. Alle volte non ho neanche voglia di programmarvi video. Magari sono anche già caricati sul canale. Ma non ho voglia di programmarli. O mi dimentico. Mamma, c'ho tutti dei ciuffetti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!